Carissime sorelle e fratelli che mi ascoltate attraverso la tv Padre Pio, i miei migliori auguri di Natale. Lo faccio qui da casa, di fronte a questa piccola scenografia che vede l'immagine di Gesù Bambino alla mia destra e l'albero addobbato a festa, l'albero di Natale alla mia sinistra. Come diranno i pastori di fronte a Gesù che riconoscono presente nella stalla appoggiato in una mangiatoia, siamo di fronte ad un avvenimento, ad un grande gesto che Dio ha fatto di amore e di pace, di riconciliazione verso l'umanità e con la sua presenza che è venuto in mezzo a noi, a piantare la sua tenda, a porre una casa che tutto può rifiorire, che la vita rinasce e ripartire con gioia, con entusiasmo e con significato. Che questo Natale 2021 che ci vede ancora dentro la situazione della pandemia e con un territorio, con ambienti devastati per i cambiamenti climatici, con rischi ancora di guerre di vario tipo su tutta l'estensione del pianeta. Che questo Natale ci ricordi che Dio è venuto e ha fatto casa in mezzo a noi e quindi è giusto e doveroso che ognuno trovi casa. Che Gesù è venuto e si è fatto lavoratore, è cresciuto da bambino, da adolescente, da giovane lavoratore che ogni persona trovi il suo lavoro. E Betlemme ci ricorda e significa che è casa del pane, che per tutti ci sia pane, il pane della vita, una vita che ha gusto, che fiorisce, che germoglia e che si sviluppa a beneficio di tutti e troverà la vita piena per tutti. Buon Natale e buon anno senza paura e nella speranza e certezza che il Signore è l'Emmanuele in mezzo a noi e ci salva.